Sono 10.118 le automobili Euro Zero ancora in circolazione nelle strade della provincia di Prato, tante ma la metà di quante ce ne sono ad Arezzo e in percentuale poco più di Firenze, le province che aprono e chiudono la classifica regionale stilata da Facile.it che ha preso come riferimento i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019. In tutta la Toscana risultano iscritti nei registri della motorizzazione 165.946 auto Euro Zero, quasi il 7% del parco auto privato in circolazione. Guardando anche alle categorie Euro 1, 2 e 3, si scopre che in Toscana il 27% delle auto che viaggia ha un'anzianità pari o superiori a 15 anni, considerando che l'Euro 3 non è più in produzione dal 2005 e l'Euro 0 dai primi anni 90. I 14, chiamiamoli così, sono più numerosi ad Arezzo che ne conta quasi 20.000 con una incidenza dell'8% sul complessivo delle auto registrate alla motorizzazione. Prato ha una percentuale del 6%, appena più alta di Firenze, che ha un parco auto privato assai più ampio che pur con quasi 37.000 vetture Euro Zero pesa meno in termini percentuali, mentre in termini assoluti è la provincia con più auto datate ancora su strada.